Shortage non è una parolaccia, ma è una tecnica di investimento mirata a guadagnare con i mercati che scendono. Ma come funziona? Come può l'investitore normale utilizzare queste tecniche e soprattutto quali sono le cose nascoste, i potenziali pericoli? Ne parliamo fra qualche secondo. Ben trovati, io sono Giacomo e questo è Segreti Bancari Live. Lo show che ogni venerdì aggiunge un pezzetto alla vostra formazione per aiutarvi a investire in modo più consapevole, più semplice, più redditizio. Se mi stai guardando su YouTube e magari è da poco che stai seguendo questo show, ti invito ad iscriverti al mio canale. Mentre se invece stai ascoltando la mia voce, magari mentre stai guidando l'automobile o stai correndo perché ti piacciono i podcast, iscriviti al mio podcast che ha lo stesso contenuto ma è in modalità solo audio su iTunes, Spotify o Google Podcast. E per tutti quelli che incuriositi da quello che facciamo qui, vogliono entrare in contatto con me e la mia azienda, per sapere come fare a investire in modo redditizio con il nostro supporto, visitate il sito segretibancari.com. Ma per capire come guadagnare con i ribassi di mercato, ovvero come implementare una strategia short, dobbiamo capire come funziona la strategia long, ovvero la strategia che tutti utilizziamo sui mercati finanziari, perché long vuol dire sostanzialmente investire a rialzo, mentre short vuol dire investire al ribasso. Allora partiamo da queste due operatività mettendo in luce le loro differenze. L'operatività long come la short hanno tre caratteristiche. Caratteristica numero uno, partendo dal discorso long, la durata dell'operazione. L'investitore long può ottenere i titoli quanto vuole, anzi noi sappiamo che un portafoglio costruito con tutti i crismi genererà performance nel corso degli anni, quindi non c'è motivo sostanzialmente per chiudere le posizioni troppo presto. La seconda cosa riguarda il fatto che l'operatività long non presenta costi particolari che non siano i costi di detenzione degli strumenti finanziari, se questi vengono tenuti in portafoglio tramite un veicolo di investimento. Se voi comprate un etf, per esempio, pagate la commissione di gestione, però al di là di questo non ci sono costi particolari. La terza caratteristica dell'operatività long sta nel fatto che essa aiuta l'economia reale, perché il fatto che ci sia un mercato finanziario dove vengono scambiati i titoli aiuta le imprese a raccogliere capitali. Immaginate cosa capiterebbe alle società se non ci fosse la borsa. Dove potrebbero trovare i mezzi finanziari? La borsa è quello che dà fluidità al sistema, quindi abbiamo un mercato primario fatto di società che raccolgono denaro mettendo titoli e un mercato secondario dove i titoli girano tra investitori che li comprano e li vendono. L'operatività short invece ha altre tre caratteristiche distintive. La prima è un'operatività speculativa di breve durata, perché chi shorta il mercato non lo fa per andare contro di esso magari per qualche settimana o qualche mese, lo fa per andare contro il mercato per qualche giorno, e quindi sfruttare i movimenti di breve periodo. Ma c'è un'altra ragione anche per cui lo short deve durare poco, che sono i costi impliciti, perché andare contro mercato in buona sostanza vuol dire vendere allo scoperto ciò che non si ha. E come faccio io a vendere un qualcosa che non ho? Devo prenderlo a prestito. Di conseguenza se il mercato inizia ad esempio a salire, io devo ricomprare quello che ho venduto allo scoperto per poter chiudere la posizione. Lo devo fare anche se il mercato continua a scendere, ma se il mercato sale, quindi inizio a perdere dei soldi, perché ho venduto un titolo che non avevo 100 euro, adesso vale 103, scatta il cosiddetto margin call, ovvero l'intermediario che mi ha prestato i titoli mi obbliga a rientrare per chiudere la posizione. Morale della favola, lo short dura poco. Il terzo aspetto riguarda il supporto al mercato, cioè l'operatività short non aiuta l'emittente, a differenza invece dell'investimento o dell'operatività long che come abbiamo visto aiuta l'economia reale. L'operatività short aiuta i mercati nel loro insieme dando liquidità agli stessi. Attenzione ad una cosa però, che il fatto di poter guadagnare con un mercato che scende implica delle curve di retroazione, cioè il ribasso si autoalimenta, perché nel momento in cui il mercato scende subentrano gli speculatori di bassisti che vanno short e il mercato inizia a tracimare. Prova ne è che a febbraio del 2020 Consob vietò le vendite allo scoperto, ovvero l'operatività short proprio per evitare che pochi speculatori, anche un po' Garibaldini, come si dice delle mie parti, guadagnassero scapito di piccoli investitori che invece hanno un'operatività long. Questi ultimi sarebbero stati magari indotti a vendere dalla paura di ulteriori perdite facendo ingrassare gli speculatori. Lo strumento fondamentale per l'operatività short per il piccolo investitore sono gli etf short anch'essi, perché in qualche modo l'etf short permette attraverso l'acquisto di uno strumento finanziario che noi conosciamo di guadagnare col mercato che scende. Quindi non siamo noi in buona sostanza a vendere allo scoperto, lo farà l'etf per conto nostro. L'etf short ha come caratteristica fondamentale quella di avere un andamento che è esattamente simmetrico rispetto a quello del mercato sottostante, perché la sua performance è quella del sottostante cambiata di segno. Esistono poi anche degli etf short a leva, che sono quelli che riconoscete perché nella descrizione hanno una x, 4x, 2x, 3x e così via, dove per leva si intende che la performance prodotta è pari a quella del sottostante moltiplicata per la leva cambiata di segno. Se io un etf short 4x significa che quadruplica la performance del sottostante invertendo nel segno. Quindi se il mercato scende del 2% l'etf salirà dell'8, se il mercato fa più 2 l'etf perderà l'8%. Questo è un problema perché l'etf short sia con leva sia senza leva, ovvero 1x, non replica l'andamento del sottostante ma trasforma la variazione percentuale cambiandolo di segno. Questo cosa significa? Che se voi partite con un valore indice pari a 100% quando comprate l'etf short e il mercato fa più 10% l'etf perde il 10%. Quando il mercato perderà il 10% l'etf guadagnerà il 10% ma per effetto del fatto che c'è di mezzo un compounding, cioè più 10 o meno 10 non vengono applicati sulla stessa grandezza perché se da 100 faccio 10% vado a 110% e quando io vado a togliere il 10% non lo tolgo da 100% ma da 110% alla fine non tornerò più al valore iniziale. Questa è una cosa che implica attenzione per quanto riguarda gli investimenti short e soprattutto in quelli a leva perché non è detto che il mercato ritorni a livello iniziale e voi riprendete i vostri soldi, anzi sicuramente non sarà così. In più l'operatività short è un'operatività come ho detto costosa perché l'etf oltre ai normali costi di gestione ha anche i costi legati al prestito titoli quindi vi sconsiglio in buona sostanza e poi vedremo perché di utilizzare gli etf short però è giusto che voi sappiate anche come utilizzarli. Esistono due tecniche che potete mettere in campo la prima è il cosiddetto hedging ovvero la copertura. Immaginate di avere delle etf e quindi di essere degli investitori long come lo siamo tutti. Se io mi aspetto che il mercato scenda anziché vendere gli etf quindi chiudere le posizioni potrei comprare degli etf short. Perché potrei fare questo? Per esempio immaginate se io ho degli etf long tradizionali in perdita. Se io li vendo crea una minusvalenza non recuperabile. Se invece vado a comprare un etf short di fatto non vendo l'etf long. Il problema però dov'è? E' che nascondo lo sporco sotto il tappeto perché se poi il mercato scende io avrò un guadagno sull'etf short e pagherò una plusvalenza su quello. Il concetto però è lo stesso cioè se io vado a fare hedging in buona sostanza blocco la situazione in un determinato momento. Ciò significa che da quell'istante in poi avendo io in portafoglio sia l'etf long sia l'etf short. Se il mercato sale guadagnerò con long e perderò con lo short. Se il mercato scende guadagnerò con lo short e perderò con il long. Se la copertura è fatta bene le due grandezze si compensano. Quindi è come se vendessi tutto in questo istante. Fare hedging con gli etf short è una cosa che non vi consiglio per i motivi che vi ho detto. Se voi in qualche modo avete paura che il mercato crolli, non c'è nessuno che vi consigli, non avete particolari abilità nella gestione e nella costruzione di un portafoglio vendete tutto ed evitate di fare lo short. L'altro modo per utilizzare gli etf short è quello di fare una speculazione ribassista ovvero di scommettere e utilizzo questo termine in modo appropriato perché di scommessa si tratta sul fatto che il mercato perderà di valore. E quindi io senza avere una posizione sul sottostante ne apro una al ribasso. Quindi ad esempio vado a comprare un etf sulla borsa italiana, un etf short sulla borsa italiana pensando che l'indice Fuzzimib perda di valore. In questo modo se il mercato effettivamente scenderà di valore io avrò un guadagno. Ovviamente se il mercato sale andrò in perdita e quindi sarò costretto in qualche modo a chiudere la posizione anche perché come vi ho detto all'inizio lo short dura poco. Quindi io posso pensare che di qua a due o tre anni la borsa italiana andrà meglio grazie a magari una crescita economica. Non posso pensare che di qua ai prossimi tre anni la borsa italiana scenda. Se operate con la leva fate attenzione perché la leva è un qualcosa che ingolosisce ma è molto pericoloso. Vi ricordo che con una leva per esempio pari a 5 un più 20% del sottostante implica l'azzeramento del vostro capitale per cui fate molta molta attenzione. Vi ricordo cosa accadde per esempio con gli etf sul petrolio a leva nel marzo barra maggio del 2020. Quali sono i tre take away per l'investitore consapevole? Io vi ho detto cos'è lo short, vi ho detto anche come fare a guadagnare con mercato che scende ma personalmente vi sconsiglio di farlo perché punto numero uno l'investitore sa che un portafoglio ben strutturato, ben diversificato, costruito anche secondo la propria tolleranza al rischio nel tempo darà risultati soddisfacenti perché il mercato tenderà a salire e quindi essere short nel lungo periodo non paga. In più l'operatività deve essere un'operatività molto breve perché punto numero due il mercato inverte all'improvviso. Quindi se voi fate un'operazione short fatela ma seguitela nel giro delle ore e giorni successivi perché basta che il mercato smetta di scendere e rimbalzi e restate fregati. Attenzione anche a non iniziare l'operatività short dopo che il ribasso ci sia stato perché in quel caso lì entrate col parco buoi semplicemente quando le mani forti iniziano a comprare dove per mani forti intendo gli investitori più intelligenti voi purtroppo siete nella condizione opposta che andate a vendere allo scoperto. Terza e ultima cosa l'investitore a corto che cosa fa? Non teme i ribassi, non va a speculare coi ribassi ma li accoglie come ordine normale delle cose come un temporale estivo per esempio e ne approfitta non cercando di vendere quindi di shortare il mercato dopo che il ribasso c'è stato quanto piuttosto di comperare in controtendenza ad esempio utilizzando le tecniche del ribilanciamento del portafoglio. Con questo è tutto io vi aspetto nei commenti per discutere con voi e quindi rendere interattivo questo contenuto e vi ricordo di iscrivervi al mio canale youtube o su spotify, itunes o google podcast per essere sempre aggiornati su nuovi contenuti che pubblicherò volta per volta. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon investimento, buon weekend e ci vediamo venerdì.